Come mamma chiedo soprattutto sia ai genitori ma anche ai ragazzi, non tenetevi le cose dentro, parlate, parlatene anche con i genitori, anche se litigate, non importa. Poi la pace si può sempre fare ma anche i genitori devono capire i figli che possono avere dei problemi dentro, forse anche noi non abbiamo capito del tutto il riccardo. Stefano e Luisa Faggin parlano stringendosi l'un l'altra per affrontare un dolore che nessun essere umano dovrebbe mai provare, quello della morte di un figlio. Il loro Riccardo, 26 anni, è morto la notte prima di una giornata che doveva essere bellissima, quella della sua laurea, ma che invece sarebbe stata difficilissima perché nessuna discussione di tesi era in programma all'università. Se anche da queste enormi tragedie dobbiamo recuperare un insegnamento, dare un senso a quello che è accaduto, è proprio che bisognerebbe, non so se sia possibile, ma trovare il modo di far uscire queste enormi difficoltà che evidentemente le persone si portano dentro. Cosa sia accaduto? Lunedì in via Romana a Ponense lo dovranno stabilire i rilievi della polizia locale, ma per questi due genitori ora resta solo un grande, immenso dolore senza spiegazione. Per questo Stefano e Luisa vogliono lanciare un messaggio importante, genitori e figli cercate di comunicare sempre. È difficile ammettere i genitori di aver fatto delle cose difficili ed è difficile ammetterlo anche agli amici, ammetterlo alla comunità che ti sta vicino. Non abbiate questa paura, le persone in generale, i vostri genitori o i vostri amici saranno felici di aiutarvi. In via Romana a Ponense, nel luogo dell'incidente, nessun segno di frenata, tutte le ipotesi sono aperte, nulla viene escluso dagli investigatori, ma niente potrà restituire Riccardo a mamma e papà. Riccardo era un ragazzo estremamente aperto, solare, amava fare del volontariato, è stato in parrocchia per tanti anni, ha fatto il capogrest, ha fatto la sagra. Non abbiamo per scontato nulla, però ci viene da pensare che siccome Riccardo era molto prudente nel guidare, quindi ci sembra strano che sia caduta una cosa del genere.